Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Yuri Pelagatti. Lei è l'investigatore Merlino? Sono io. Si accomodi. Scusi, stavo iniziando a pranzare. Anzi, se vuole favorire... Con molto piacere. Prego. Qui. Guardi che più che pranzo noi facciamo un brunch molto, molto rapido. Una cosa semplice. Sì, sì. Mi piace, mi piace. Si accomodi. Grazie. A sinistra, sì. Sì, abbiamo un ospite. Un ospite. Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Accomodatevi. Sia, ci sono un po' di penne per l'ospite? No, sono finite. E ora come facciamo? E va bene, le facciamo una bella frittata. Ma no, non si disturbi. Ma quando mai? Mi piace la frittata? Sì, mi piace. Va bene. Ecco, prego. Tovagliolo. Ah, sì. Grazie. Spiego dopo. Tranquilo. Non toccare nessuno. Certo, l'hai visto? Eh? Renatino Pio si è mangiato tutto, tutto. Perché ti piaceva? Brava, brava. Ah, brava. Buono, eh? Sì. A me piacciono più al dente, comunque si lasciano mangiare. Ma chi è Renatino? Zio Renato e suo marito, che è questo. Lei crede che sia vivo, ma in realtà è morto. Ci sono dei giorni che è lucida, dei giorni che non è lucida. Oggi. No. Oggi no. Noi però non dobbiamo mai contraddirla. Renato è qua e anche noi lo vediamo. Lo vediamo anche lei. La signora cucina con un po' di sale. Giusto, ma troppo poco. Ha una birretta. Siamo assieme. Sì. Sì. Grazie.